Mercoledì 6 marzo 2019, 65esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Sant'Ezio. Oggi è il mercoledì delle ceneri. Oggi l'onomastico di Ezio. Il nome deriva dal greco e significa amico, amante. Il numero portafortuna è l'otto e il colore è il rosso. Il 6 marzo del 1902 viene fondato il Real Madrid, la squadra di calcio che ha vinto più coppe dei campioni e la più titolata al mondo. Inizialmente la denominazione ufficiale era Madrid Club de Football e si vide assegnare il titolo di Real nel 1920 dal re Alfonso XIII di Spagna insieme alla nota corona a decorarne lo stemma. Nel 2000 il Real Madrid è stato eletto dalla FIFA come il miglior club del ventesimo secolo. Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo Michelangelo Buonarroti, nato a Caprese il 6 marzo 1475. Scultore, pittore, architetto e poeta, Michelangelo è stato protagonista del rinascimento italiano e fu riconosciuto già al suo tempo come uno dei maggiori artisti di sempre. Le sue opere come Il Davide, La Pietà, La Cupola di San Pietro e Il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina sono considerate fra i più importanti lavori dell'arte occidentale e traguardi insuperabili dell'ingegno creativo. Pensi da avere ancora talmente tanto tempo a disposizione che potrai cambiare la tua vita mille volte. Poi cresci e capisci che quella è la tua vita. Dal film Scusa ma ti chiamo amore. Certe chiacchiere tra amiche sembrano rose e sono urticche. Proverbio italiano.